Il Montevarchi spettatore forzato della terza di campionato per il rinvio del match con la Bucinese si prepara ad affrontare in trasferta l'Olympic Sansovino nella gara secca del secondo turno di Coppa. Si gioca questo mercoledì alle 20.45 alle fonti di Monte Sansovino e per la formula della manifestazione, se ci sarà parità al termine dei 90 minuti, si disputeranno i supplementari e qualora il pareggio dovesse persistere dopo l'overtime si qualificherebbero gli Aquilotti in quanto squadra ospite. Previsto, secondo un copione già sperimentato nel doppio turno inaugurale, un ampio turnover tra i rosso-blu che tuttavia puntano con decisione a qualificarsi per poter consentire ad un organico numericamente consistente e qualitativo di mettere per così dire in difficoltà l'allenatore anche nelle scelte domenicali. Potrebbe essere recuperata intanto mercoledì 5 ottobre la sfida di Campanile con la Bucinese che non si è disputata su disposizione della prefettura di Arezzo domenica passata. Questa è almeno l'intenzione del Comitato Toscano della FIGC, ristabilire quanto prima l'equilibrio degli incontri giocati nel girone B di eccellenza per non falsare in alcun modo l'andamento della stagione. La decisione definitiva dunque è imminente e sarà presumibilmente contenuta nel comunicato ufficiale di giovedì. Probabile anche che il campo neutro del confronto sia ancora il Mario Matteini di Terra Nuova, come accadde il 10 gennaio scorso.